Il cross dentro per il colpo di testa da parte di Malverti che è troppo trattenuto e quindi è calcio dei ruoli a munizione per Markic svolta incredibile la partita al sesto minuto del secolo non particolarmente convinta la difesa della Viterbese che continua a protestare con l'armi Pumas gol della Viterbese 1-1 assegnata a Camigliani in basso il tornatore del tempo al lato della propria destra in casa che è caldo destra da Miralli Bernardotto dentro in area vigore protegge bene il pallone e si sta a fare sui ipernardotto gol della Viterbese 2-1 da parte del numero 7 entrato per spaccare una partita Michele Volpe capace di restare mentalmente nel match la giocata è rimasta nel campo avversario ha trovato due gol ha portato veramente molto bene lui è secondo me ha avuto più libertà sull'altra parte che è caldo che è caldo ma forse non era regolare anzi no perchè sono andati con il destro venire al portiere a tutti a tutti a tutti a tutti il mondo San Patero a tutti a tutti